Ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul mio canale. Se ancora non mi conoscevi io sono Anna, sono una makeup artist e oggi faremo un tutorial per realizzare un trucco di Halloween. Diciamo che a me non piace tanto questa festa barra ricorrenza barra periodo dell'anno, non mi fa impazzire ricreare look spaventosi, però so che a tanti piace, so che comunque si organizzano magari feste o serate in discoteca, quindi se volete ricreare questo look che è molto semplice e soprattutto faremo con dei prodotti che sicuramente avrete anche voi. Non vi servirà sangue finto, robe strane per effetti speciali. I prodotti chiave fondamentalmente saranno tre, una tinta labbra rossa ovviamente, un ombretto viola dell'acqua, un pennellino sottile. Vi servirà solamente questo, poi sicuramente tutti i prodotti che andremo a usare sono dei prodotti che comunque ci avete tutte, ma prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e di interagire con il video in modo da far girare il video un po' di più e anche il canale. Grazie. E se avete qualche amica comunque anche interessata a questo tipo di make up, magari sto cercando qualcosa appunto per Halloween, condividete anche il video. Allora, i prodotti che vi serviranno sono appunto un fondedinta più chiaro, io utilizzerò questo qui di Colourpop, anche se non è fondamentale avere un fondedinta un po' più chiaro, se c'è meglio, altrimenti poco importa. Un'altra cosa che vi servirà sarà un pennello così da eyeliner. Vedete che la punta è molto 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 sottile e se non l'avete, un pennellino così da eyeliner, perché magari non utilizzate l'eyeliner in gel, quindi non tutti hanno tutti questi pennelli, lo capisco bene, potete usare anche un pennello da pittura. Se appunto non li utilizzate, quindi invece di spendervi quegli 8-10€ per un pennello del genere, andate in cartoleria, cercate un pennello da pittura con 2€, insomma bene uscite. Quindi un altro trick che, ma anche dai cinesi magari si trovano questi pennellini così sottili. E poi vi servirà dell'acqua e un ombretto viola. Infine, se volete proprio dare quell'effetto wow, invece di andare a comprare il sangue finto, se volete dare quel tocco un po' più insomma realistico al trucco, vi servirà una tinta labbra rossa, giusto appunto per dare quell'effetto che poi vi farò vedere alle labbra. Sinceramente se non siete amanti o comunque sia, se non avete tante occasioni e tante festicciole, tante... cioè comprare il sangue finto per chi appunto non fa questo lavoro è secondo me spregato. Se lo volete acquistare, cioè figuratevi. Però se invece di acquistarvi magari il sangue finto, vi acquistate una tinta labbra che poi ve la potete usare tutto l'anno. Ecco, e non va spregata. Ok, allora iniziamo con il fondotinta più chiaro, creiamo la nostra vase. Lo applico sulla sponge, non ne metto tantissimo perché non mi serve. Comunque schiarire troppo, ecco. Forse anche troppo è chiaro. Lo sfumo anche sul collo. Cosa pensavo quando ho preso questo fondotinta? Sinceramente non lo so. Allora, metto un correttore. Utilizzo questo qui di Rimmel, il Candem Free. Ne metto un po' qui, ma pochissimo. E uso anche questo di Revolution, che è più chiaro se non sbaglio. Sì, lo metto qua. Allora, se il contornocchi comunque vi resta un po' segnato, un po' grigiastro, poco importa tanto. Insomma, siamo un vampiro, quindi chissene. Però va comunque sia, insomma, la zona va coperta. Nel senso che bisogna creare comunque una base, ecco, per applicare poi tutti, cioè, l'ombretto, ecco. Conviene metterlo. Dopodiché prendo la mia amatissima banana e setto tutto. Direttamente anche con la sponge va benissimo. Per evitare che appunto vada troppo nelle pieghe, leggermente. Dopodiché andiamo a fare un po' di contour. E lo faccio con questo qui che è freddo, di Cosmify. Traccio, ecco, una linea così e una così. la colorazione 01, se non sbaglio. È la più chiara, è la più fredda ed è perfetto per scolpire il viso ma appunto non andare troppo a scaldare. Anche se comunque sia non è troppo freddo come contour. Assolutamente. Però vedete che c'è. Ok. Dopodiché, quel che facciamo è fare uno smoky. Potete anche non farlo voi. Potete anche, insomma, incentrarvi solo su mettere un po' di mascara e fare solamente poi le venette sotto con appunto un ombretto viola. Però io siccome voglio rendere comunque molto intenso lo sguardo, andrò a utilizzare la Basic Beach di Juno e vado a usare intanto questo qui che è Sweet. È uno dei miei colori preferiti ed è uno di quelli che sto usando veramente tanto, ma tanto, 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 così come Basic, così come Witch. Questa palette praticamente per fare make-up comunque basici appunto Basic è perfetta. Creo, appunto, un'ombra qui principalmente. Vado a mettere un po' di Basic qui. Faccio lo stesso anche dall'altro lato. Comunque è un marrone neutro. Non è troppo caldo ma nemmeno troppo freddo come Sweet. è proprio freddo come marrone. Ok, prendo una matita nera, utilizzo questa qua di Nabla e traccio una linea nera appunto all'attaccatura, solo per intensificare appunto poi il trucco. Adesso andiamo a sfumare tutto comunque. Questa è molto morbida e si sfuma facilmente. Prendo un pennellino di questi qua a penna, così sono anche un po' più precisa. Applico un altro po'. E sfumo. Vogliamo essere delle vampire sì, ma vampire sexy, quindi cerchiamo di allungare parecchio questo sguardo. Quindi la tiro anche verso l'esterno. Faccio lo stesso anche dall'altro lato. Ok, adesso quello che faremo sarà utilizzare un po' del nero, scary, all'angolo esterno, con lo stesso pennello da sfumatura che abbiamo usato poco fa. Così. Faccio lo stesso anche dall'altro lato. E poi vado a mettere Don't Be, questo qui che è questo rosso, con il polpastrello, è metallizzato anche questo. Ok, senza esagerare, senza mettere troppo rosso, e vado a sfumare gli angoli, aiutandomi con Sweet. Ok, vado a mettere una matita nera all'interno della rima ciliare inferiore. Sfumo con il pennellino questo qui a penna che abbiamo utilizzato per sfumare appunto il caciale sopra. Dobbiamo fare comunque tutto un po' bold, ecco, tanto 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 scuro. Insomma, ripeto, voi potete anche non farlo, se non vi vedete con questi occhi super intensi. Vado a prendere prima il marrone più scuro, basic. Piego un po' il pennello così sono da essere un po' più precisa. E poi con il color Sweet, il marrone appunto freddo, sfumo tutto. E il risultato che dovrebbe venirvi fuori è questo. Ok, adesso prendo questa palette e utilizzo questo viola qui. Quindi, prendo il pennello da eyeliner, lo bagno, voi lo potete bagnare tranquillamente anche con l'acqua, io lo bagno con un pochino di fix perché, vabbè, non c'ho altro qui. Dopodiché, lo passo sulla cialdina. Non fa niente se si bagna con l'acqua, comunque poi scriverà, state tranquilli. E vi consiglio di tracciare comunque prima delle lignette così. E come potete vedere, sembrano proprio delle vene, come le vene varicose. Ecco, le vene che ci sono sotto pelle. Ovviamente non dovete fare dei tratti così dritti, ma creare, vediamo se riesco a farvelo vedere, creare delle linee un po', ecco, così, non perfette e, ecco, muovere il pennello e fare questo movimento qui. O comunque tremare, insomma, fare questo. E sembreranno delle vere e proprie vene. Partendo da qui, quindi dall'attaccatura, anche se porto dietro un po' di nero e marrone, poco importa, se vedete che, insomma, si è asciugato, perché si asciugherà facilmente questo Fix Plus o comunque anche l'acqua, bagnatelo di nuovo. Più è bagnato e meglio vi viene fuori, comunque. Comunque io avevo un pennello d'eyeliner ancora più sottile, ancora più a punta, che era perfetto per ricreare questo, cioè per fare questo lavoretto qui. perché proprio si riesce a muovere, ecco, appunto, il pennello meglio. Altra cosa, le vene non tutte devono essere marcate allo stesso modo. Faccio lo stesso lavoro che ho fatto di qua, dall'altro lato, e torno da voi. Eccomi qua, vampira a tutti gli effetti. Allora, arrivati a questo punto, direi di continuare applicando un bel mascara, un mascara di quelli che proprio vi fa le ciglia wow, proprio perché abbiamo questo look super intenso, e io vado ad utilizzare quello di Clio Makeup, il Dark Love, e però, vabbè, ce l'ho sempre qui, sto usando solamente lui. Ma ve l'avevo detto, io ogni volta che, insomma, ho tra le mani questo mascara, praticamente prendo solo questo e lascio fuori tutti gli altri. Infatti, quello che avevo prima, l'ho fatto fuori tipo in tre mesi. Ecco qui, vorrei anche provare sinceramente quello nuovo, il 360 Flip, perché credo che sia anche quello abbastanza valido, da quel che ho visto sui social, da Clio comunque, sembra veramente un buon mascara, anche una buona formula, eccetera. Allora, applico il volumizzante, questo qui è il peperoncino di Astra. E nel frattempo che il gloss del peperoncino faccia effetto, volevo anche dirvi questa cosa, purtroppo io sono stata male, ho avuto l'influenza, non so se ancora si sente comunque dalla voce che sono un po' tappatina, quindi diciamo che questi look, tutti questi video, tutte queste cose, le sto facendo veramente in tempi record, e sicuramente quello che avrei potuto fare appunto in una settimana, lo sto facendo e realizzando tutto in due giorni, quindi è tutto fatto di fretta. Mi dispiace se appunto non sono, e anche i look non sono perfetti, non come li volevo, non come, anche contenuti in generale. Se mi seguite nell'altro social, ovvero su Instagram, comunque dove pubblico le storie, a inizio influenza ho postato alcune storie e poi le sono sparite. Il silenzio totale, proprio perché sono stata male non solo io, ma anche mio figlio, quindi insomma c'è stato un po' di... E niente, mi sono ritrovata appunto un po' così. Nulla, spero comunque che voi apprezzate lo sforzo, che negli ultimi giorni insomma vedrete tutto, cioè bombati da me appunto con tutti questi contenuti, spero sinceramente che vengano visti, che li facciate girare anche. Io, come sempre, per il vostro supporto vi ringrazio. Vado ad aggiungere, o meglio ad allungare, qualche venuzza qui. Ok, elimino il plumper che comunque sta agendo. Passo la sponge Soprattutto sui bordi, anzi, aggiungo anche un po' di fondo, un goccino proprio, perché il vampiro a cui mi ispiro, ecco, è quello di The Vampire Dyers. E spesso quando ad esempio i vampiri sono tipo disidratati o comunque che hanno bisogno appunto di sangue e sono così bianchi, labbra totalmente inesistenti e facciamo finta che abbiamo appena bevuto del sangue dalla nostra vittima. Quindi quello che farò sarà solo ed esclusivamente mettere una tinta che poi io con un pennellino così la la sposterò tipo sulle labbra e voglio creare vabbè, a parte che mi si sono zozzate i denti ma vabbè ce la mangeremo questa tinta voglio creare anche la goccia così perfettamente nulla che bello io me la sto magnando perché non si dovrebbe parlare spero che questo video vi sia stato utile vi sia piaciuto il look comunque potete comunque anche giocare non lo so se appunto avete il sangue finto se magari l'ho andata ad acquistare e appunto facendovi sgocciolare del sangue anche insomma sul collo sulla maglia su dove volete e nulla io spero che vi sia stato utile vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale lasciare un like noi ci vediamo al prossimo video che non sarà così tanto terrificante che bella faccia e nulla vi auguro buon Halloween e noi ci vediamo al prossimo video che parleremo sicuramente di tanti prodotti e la prossima settimana inizieremo a parlare anche di Natale quindi un bacione ciao ciao